Il Presidente della Regione Veneto ha firmato un protocollo d'intesa con le Università di Padova e Verona e i rispettivi rettori che contiene criteri e modalità di erogazione di benefici ai medici specializzandi in relazione all'impegno profuso per far fronte all'emergenza Covid-19, anche in condizioni di rischio biologico e ristoro dello stato di disagio conseguente allo svolgimento delle attività e alle misure organizzative adottate. La Giunta, su proposta dell'Assessore alla Sanità, ha stanziato una somma complessiva di 784 mila euro. Questi giovani medici, ha detto il Governatore, hanno dato un contributo fondamentale in un lungo periodo di tempo coinciso con la più grave emergenza sanitaria della nostra storia moderna. Per questo, quanto stanziato per loro, ha prima di tutto un significato di gratitudine che rinnovo in questa occasione, ha detto. Il protocollo d'intesa prevede che i criteri per il riconoscimento dei benefici legati all'emergenza Covid-19 siano il disagio da impegno profuso nell'esercizio delle proprie funzioni, il disagio organizzativo, l'entità potenziale del rischio biologico, il grado di continuità nell'incidenza dei primi tre criteri nel periodo tra il febbraio 2020 e la conclusione dello stato di emergenza. I beneficiari sono suddivisi in tre fasce, individuate a seconda dell'entità dell'impegno richiesto, con un compenso di 1.400 euro per la prima, 750 euro per la seconda e 350 per la terza. La prima fascia ricomprende gli specializzanti che nelle unità operative di assegnazione sono stati coinvolti in modo prevalente nelle attività mediche e assistenziali. La seconda riguarda gli specializzanti impegnati in attività connesse all'emergenza Covid-19, la terza interessa quelli impegnati in reparti, servizi o attività contraddistinti da basso disagio organizzativo e basso medio rischio biologico. Il 100% degli importi sarà assegnato qualora la presenza presso i servizi e reparti sia stata pari o superiore al 60% del numero delle giornate complessive di attività effettuate in relazione all'impegno richiesto. Il 70% sarà assegnato qualora la presenza sia stata tra il 40 e il 60%, il 40% chi è erogato una presenza tra il 20% e il 40%. Ad attestare l'impegno saranno le direzioni sanitarie delle US e delle aziende ospedaliere.